ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è l'Eberhard Schentigraf cronografo un signor cronografo ho scelto questo orologio proprio perché mi piace esteticamente e lo vedi la prima volta durante le fasi di presentazione a Vicenza Oro nel settembre scorso e avevo anche l'occasione di parlare con l'amministratore delegato che me lo illustro per filo e per segno poi nell'ultima puntata recentemente che abbiamo fatto in negozio da Giacomo lo abbiamo presentato perché finalmente è arrivato nei negozi quindi ho colto l'occasione per prenderlo e portarlo a casa e testarlo chiaramente mi è stato messo a disposizione da Giacomo che è titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio che è partner ufficiale del canale e concessionaria del marchio quindi chiamateli sentite che prezzo vi possono fare per questo simpatico orologio ora facciamo un passo indietro no è stato presentato a Vicenza Oro nel settembre 23 e poi durante la puntata scorsa in gioielleria io devo fare anche ammenda perché ho definito il calibro 7750 all'interno dell'orologio e sono giunto alla conclusione ora adesso che non si tratta del 7750 quindi mi scuso con gli spettatori per averli fuorviati però ad onor del vero devo anche tirare l'orecchia di Eberhard perché c'è una cosa che io non sopporto di Eberhard cioè sul sito web mancano informazioni ossia un prezzo un prezzo ad esempio non si trova nemmeno a pagare l'oro cioè pago per sapere il prezzo no non c'è non si trova il massimo che viene scritto è trova il concessionario più vicino a te e a me mi verrebbe da rispondere e te trova il portafoglio più vicino a me cioè nel senso non te lo compro allora no perché non mi metti prezzi e in secondo luogo questo mi dà ancora più fastidio perché il prezzo poi si trova da qualche parte è la mancanza del dei calibri della denominazione dei calibri non si capisce che calibro in cassa un orologio semplicemente di fianco c'è scritto calibro automatico io dovrei comprare appassionato un orologio a scatola chiusa senza sapere cosa c'è dentro poi nessuno di noi è il massimo del dell'esperto del tecnico di sapere quella ma almeno conoscere cosa c'è dentro un orologio che voglio comprare lo devo sapere quindi questa qua è una cosa per la quale vi tiro le orecchie amici di eberhard non me ne vogliate cercate di essere più di fornire più informazioni possibili all'acquirente all'appassionato perché è così che si vendono gli orologi poi a me è già successo di fare certe critiche e di ricevere anche le lettere degli avvocati per l'amor del cielo però poi dopo hanno cambiato il sito web in meglio quindi se serve a quello mi posso anche immolare per una lettera dell'avvocato quindi come ho scoperto io che non si tratta di un 77 50 sempre secondo me prendetelo con le pinze però dovrebbe essere così perché quando io porto a casa un orologio la prima cosa che faccio è fargli le riprese perché perché potrei guardarlo con le lenti con gli occhiali tutte le macro tutte le situazioni oppure metterlo direttamente dietro la macchina da presa la fotocamera e vedere le immagini ingrandite così prendo due piccioni con una fava come diceva cicciolina nel senso che mi faccio le riprese e utilizzo quel tempo due ore ci metto per guardare le immagini ingrandite nel monitor così riesco a capire tutti i dettagli tutte le particolarità e in questo caso mi sono accorto che i secondi continui sono ad ore 3 non esiste nessun 77 50 o 77 53 che dir si voglia che hai i secondi continui ad ore 3 ce li hanno tutti ad ore 9 e mi sembra anche improbabile che qualcuno si sia messo a invertire i contatori a fare rigiri con gli ingranaggi leve levette per spostarli per invertirli no questa è una caratteristica propria del 77 50 cioè avere i secondi continui ad ore 9 quindi lì ho avuto il dubbio poi come vedrete poi nella recensione spiego anche perché altri altri indizi che mi portano a pensare che sia un altro calibro ma prima di guardarla vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpatico omega speed master il moon watch 42 mm quadrante nero vetro zaffero davanti e vetro zaffero di dietro un simpatico orologio cronografo come questo qua che andremo a vedere che però ha il calibro proprietario 3861 con scappamento coaxial è un bell'orologio ci piace tanto adesso giriamo la camera diamo un'occhiata a questo cronografone qua della eberhard e poi ci troviamo come al solito per le considerazioni personali snoccioliamo come al solito i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul tavolo diametro cassa 40.7 mm spessore 13.6 ingombro trasversale al polso 48.5 e in terasse ansa da 20 mm misure sulle quali non c'è molto da dire se non che si tratta di parametri che si tramutano in un orologio ben proporzionato ed ottimamente indossabile ben distante dall'essere invadente ma neppure troppo compatto da risultare fuori luogo i cronografi troppo contenuti in diametro a parer mio perdono un po di appeal specie se si considera che solitamente lo spessore potrebbe apparire fuori scala non è questo il caso in quanto una misura al di sotto dei 14 mm è da considerarsi buona specie al polso se non bastasse lo spessore diventa rimarchevole se si pensa che all'interno della cassa vi è anche la presenza di una gabbia di faraday ossia una sorta di doppio fondello una struttura in ferro dolce che assorbe le onde elettromagnetiche dei dispositivi proteggendo il movimento e rendendolo antimagnetico lateralmente però quasi tutto il peso dei 13 mm viene spalmato sulla carour relegando al ruolo di comprimare il fondello e la lunetta poco male in quanto non è così evidente e perché facente parte dello stile dell'orologio stile che prevede superfici lucidate a specchio un po ovunque tranne che nella parte superiore è laddove una nitida spazzolatura caratterizza il dorso delle anse molto piacevole e ben delineata da un bisello di separazione al quanto accentuato il pregio delle finiture lo si percepisce anche nei finali bracciale che aderiscono perfettamente alla cassa andando a richiamare la stessa spazzolatura vista in precedenza nulla da eccepire su questo fronte nella vista dall'alto ciò che connota lo stile è sicuramente la metà lucida leggermente più larga della media almeno a livello visivo restituito ciò comporta una minore ampiezza del quadrante e in proporzione una miglior resa al polso non si possono poi tralasciare i pulsanti cronografici a pompa sporgenti e a finitura lucida una chiara ispirazione al passato che fa pandan con lo stile della corona di carica zigrinata e di diametro considerevole retaggio dei cronografi a carica manuale di un tempo se però serviamo il gruppo pulsanti di lato riusciamo a notare un certo disassamento tra corona e pulsanti questa è la tipica configurazione che ci restituisce un calibro cronografico modulare ossia con il modulo crono appena sotto il quadrante ed il modulo tempo più verso il fondello l'unica risposta che mi sono dato quindi è che in questo orologio è presente un calibro di quel tipo molto probabilmente un etta 28 24 oppure un 28 92 con modulo dobuy de pra in entrambi i casi poco cambia si tratta comunque di calibri utilizzati da molte case anche blasonate che però sembrano ostici da revisionare in quanto l'assemblaggio dei due moduli allunga i tempi e gli imprevisti dell'orologiaio di turno senza contare che a livello concettuale un calibro cronografico integrato è maggiormente affascinante un punto debole legato al calibro l'ho però riscontrato nella corona di carica ho infatti notato che vi è uno scatto intermedio fantasma ossia tra posizione di carica e quella di settaggio ore vi è una terza posizione che non agisce su nessun ingranaggio la corona gira vuoto in quanto non è presente né d'altario né discodata una piccola mancanza di funzionalità il lato positivo è che è a vite e si va quindi ad avvitare saldamente la cassa ciò rende i 50 metri di impermeabilità attendibili a tutti gli effetti mettendo in luce che il limite fisico del sistema è da ricercarsi nella tenuta stagna dei pulsantini una menzione particolare la voglio dedicare al fondello anche sua vita è ben decorato va a riprendere il design dello storico shantigraph degli anni 60 e ci restituisce una gradevole sensazione di solidità e resistenza d'altronde fortunatamente l'opzione fondello trasparente è da scartarsi a priori avrebbe messo in mostra la prima citata gabbia di faraday e niente più ma giriamo l'orologio diamo lo sguardo al quadrante a sormontarlo c'è prima un vetro zaffero leggermente convesso che vede un efficace trattamento antiriflesso nella parte interna la sua capacità la si evince dalla qualità delle riprese che sono riuscito a fare una curiosità sulla brochure ufficiale viene definito come scavato non mi è dato sapere il significato del termine e ipotizzo si tratti di un sistema particolare per ricavarlo dal pieno rimarremo col dubbio ma veniamo al quadrante vero e proprio un nero degradé poco accentuato che vede solamente una ristretta parte centrale che appare in grigio il tutto a finitura galbè ossia un'impercettibile granulosità che rende più vivo il quadrante per contrasto troviamo i due sottocontatori a finitura azure che in parole povere sarebbe la definizione tecnica per quella lavorazione a cerchi concentrici che abbiamo imparato a conoscere su molti altri cronografi direi un classico e anche qui è proprio la differenza dei due piani a renderli piacevoli alla vista sono infatti incavi rispetto al quadrante principale e la profondità che ne deriva rende il tutto più tridimensionale allontanandoci dal dettaglio ciò che rende apprezzabile questo dial è la simmetria senza ombre di sorta due compacts ore 3 e ore 9 due numeri arabi ore 12 e 6 e tutta una serie di triangoli a dar forma e stile all'intero orologio gli indici sono posti sulla circonferenza senza soluzione di continuità e quelli ai quarti vengono capovolti al fine di marcare incisivamente quel lasso di tempo sono applicati ben in rilievo e pigmentati con una superluminova di color avorio per la cronaca c'è una versione più audace nella quale gli accenti sono arancioni se non bastasse anche le sfere presentano una freccia finale sia quelle dei sottocontatori molto ben visibili che quella ore con la sua impalcatura metallica centrale ciò che si ottiene è un quadrante veramente ben leggibile sia la parte solo tempo che quella cronografica così come anche in assenza di luce lo è il fatto che gli indici siano forma triangolare consente l'applicazione di un consistente quantitativo di superluminova e il risultato è sicuramente eccellente anche i due compacts sono leggibili rimane esclusa la sfera cronocentrale magari non serve ma allora perché i minuti crono ad ore 9 sono visibili al buio non rimane che di squisire a riguardo del bracciale e qui il compito diventa molto semplice eberhard ci ha abituato a bracciali di qualità e qui non si fa alcuna eccezione la solidità di costruzione è la prima qualità che si percepisce avendolo in mano consistente e robusto dall'impressione di essere quasi un monolite se non che riesce anche ad essere ben avvolgente e comodo questo grazie ad un design piuttosto frammentato che vede le singole maglie essere capaci di ripiegarsi su se stesse in maniera quasi anomala ma siccome anche l'occhio vuole la sua parte ecco che la spazzolatura centrale fine ed elegante fa il paio con il lucido della parte esterna lucido che presenta un particolare scalino che trasforma in satinatura la parte laterale del bracciale il tutto assemblato e tenuto in sede da perni passanti a vite la chiusura del tipo de proence ingola a scomparsa una sorta di claspa farfalla ma senza doppia cerniera porta con sé il vantaggio che una volta chiusa diventa un tutt'uno elegante con il bracciale ma ha lo svantaggio di non avere alcun tipo di regolazione fine occorre togliere e aggiungere maglie possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali l'orologio promosso è per l'amor del cielo secondo me addirittura la versione cronografo dello shantygraf ha tutte le carte in regola per diventare iconica nel senso che rubare addirittura il posto allo shantygraf solo tempo secondo me questa versione qua così con i pulsantini bella vedersi un cronografo no proprio come ebelard ci ha abituato può diventare la punta diamante della collezione shantygraf ora detto questo quali sono i punti positivi ai punti negativi negativi la corona la corona lì che c'è lo scatto fantasma al centro cioè uno scattino e non c'è niente poi dopo si estrae ancora e si regola l'orario ecco quello significa che è lo scatto fantasma che è del calibro 28 24 che poi tra l'altro la data c'è la finestra data ce l'avrebbe anche molto distante dal quadrante se ci fosse quindi hanno preferito anche non metterla per quello forse va bene poi tra l'altro non è molto solida la corona quando la si maneggia si avverte un certo un certo non so che che insomma potrebbe un po ruvida ecco è un po ruvida non è sciolta come le altre di buono c'è che è a vite quindi una volta avvitata non ci sono problemi ma nel momento in cui voi ce l'avete svitata ed è strata attenzione a non fargli prendere colpi perché mi sembra piuttosto debole come sistema è bella avvitata solida lì e siamo a posto punti positivi chiaramente le finiture il bracciale poi sopra e sopra di un paio di punti sopra alla media perché veramente sono fatti bene bracciali di ebrard viti a perno finiture del delle smussature veramente eccellente attaccatura alla cassa perfetta sembra quasi tutt'uno con la casa veramente veramente bene anche le finiture superficiali così come le finiture superficiali della parte superiore della casa ci piacciono e poi l'aspetto estetico voglio dire è un bel cronografo leggibile tra l'altro non cosa così scontata sui cronografi grazie alle piccole sfere dei sottocontratori alle sfere che sono tutto ben leggibile è perfettamente un cronografo che riesce a svolgere la sua funzione cioè quella di essere letto di darti degli intervalli di tempi no quello un altro punto positivo è lo spessore che però lo spessore è dovuto alla scelta del calibro perché il calibro modulare pur essendo più complicato da revisionare ha il vantaggio di essere più sottile della media dei cronografi integrati quindi il vantaggio è quello probabilmente è stato scelto modulare cioè più sottile proprio perché una parte dello spessore poi doveva essere dedicata al fondo al contro fondello cioè la gabbia di fara dai che c'è all'interno no quella per limitare il magnetismo che è uno dei punti a favore anche di questo orologio quindi essendoci questo doppio fondello hanno preferito utilizzare un calibro più sottile ossia il modulare questa è la spiegazione però in generale 13.6 di spessore per un cronografo è sono buoni ragazzi sono troffa andare via elegante al polso come si deve ripeto per me orologio promosso al netto di quei punti deboli di cui sopra boh poi io vi ho messo le tutte le caratteristiche le foto le immagini tutto quello che potervi potevo dirvi l'ho detto no e poi fate voi fate voi cioè io non è che posso scegliere per voi vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video l'orologio il presentatore e tutto il resto non mi resta quindi che ricordarvi che gli appuntamenti fissi sono come sempre quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love